Ti è mai capitato di aver bisogno di una consulenza immediata per risolvere un problema? Scegli l'argomento e digita la tua domanda nel modo più chiaro e semplice possibile. Scopri Guru disponibile in tempo reale ad offrirti consulenza. Valuta il profilo ideale per prezzo e recensioni, puoi scegli il Guru che preferisci. Entra in call con il Guru e ricevi il supporto richiesto. I primi 30 secondi sono gratuiti per consentirti di valutare la competenza del Guru. Terminata la chiamata, sarai informato sulla durata della conversazione e sull'importo addebitato. Ti verrà inoltre richiesto di lasciare una recensione molto importante ai fini di un miglior funzionamento dell'app.